Si atrofizza un po' il dinamismo dell'economia torinese. Nel 2023 il numero di nuove imprese aperte ha raggiunto il punto minimo in 15 anni. C'è però un rovescio della medaglia. Quelle che chiudono sono ancora meno e così il saldo complessivo, seppur contenuto, è positivo, più 0,45%. Secondo i dati contenuti nella relazione annuale della Camera di Commercio di Torino, le nuove imprese del capoluogo piemontese sono poi più resilienti perché a tre anni dall'apertura ne restano in piedi quasi 3 su 4, più che a Milano, Roma o Napoli. Va detto però che allargando lo sguardo, nell'ultimo decennio il numero complessivo delle imprese attive è sceso di 5.000 unità. Insomma, un quadro in chiaro scuro che fotografa un tessuto economico che cambia. Crescono molto più le aziende dei servizi, anche nei servizi alle imprese e c'è un fenomeno di riduzione ormai da alcuni anni nell'industria, nel commercio, anche nell'agricoltura. Un aumento dei servizi legato in parte alla esternalizzazione delle attività da parte delle aziende stesse, che affidano la logistica, le pulizie o la contabilità per esempio a terzi, ma anche ad altri fattori come la progressiva contrazione della sanità pubblica. Servizi che stanno andando a compensare ad esempio la parte dei servizi sanitari? O servizi che stanno andando a completare l'offerta che una volta era appannaggio solo delle realtà associative? Bene le imprese straniere e le artigiane, in calo quelle femminili e soprattutto quelle giovanili. Cambia poi molto anche il mondo del turismo. Raddoppiano gli Airbnb negli ultimi dieci anni e il turismo come l'attività sono cresciuti molto più i ristoranti, sono diminuiti i bar. Quindi l'offerta anche del servizio al turista è modificata. Tanto che alla Camera di Commercio hanno rafforzato lo sportello orientamento. In una economia che cambia diventa cruciale saper scegliere in cosa lanciarsi.